ciao a tutti e bentornati su azalea channel se invece siete nuovi benvenuti in questo caso vi invito a iscrivermi al canale e lasciare un commentino sotto al video così ci conosciamo comunque ragazzi oggi siamo tornati da trudi perché abbiamo delle cosine una missione in particolare da portare avanti con lei intanto come vedete ci è venuta a trovare questa similità che si chiama amara damir l'avete già incrociata nel primo episodio lei è un'altra delle famiglie che abitano qui al motel toma in particolare lei con la sua famiglia abita proprio nell'appartamento sopra di noi questo qua il numero 5 ma avremo modo di conoscerla meglio per il momento comunque lei ha bussata la nostra porta e trudi che è sempre in cerca di segretucci e chiacchiere varie non si è fatta sfuggire l'occasione intanto che loro chiacchierano un pochino vi faccio vedere che sono andata un po avanti con l'aspirazione di trudi vedete che ho spuntato quella di scoprire dei segreti e inoltre ho curiosato un pochino ho ascoltato di nascosto qualche sim intanto abbiamo appreso che amara è una madre casalinga e vi faccio vedere nei giorni scorsi che ho scoperto direi un bel po di segretucci perché guardate un po qui intanto abbiamo scoperto il segreto di questa sim nin giallo al gambinetto poi il segreto di liam che è pancino gommoso il segreto di alon fatalità la frutta e poi ragazzi il segreto di arturo capricci da tigre tra tutti i segreti andiamo a leggere questo qua perché è davvero interessante e correlato con questa missioncina di cui vi parlavo che andrà a fare trudi oggi capricci da tigre il rifugio di tomaran è aperto da tempo immemorabile durante la mia infanzia supplicavo che mi portassero a vederlo ogni fine settimana in occasione di una visita vedi un cuccioletto che incespicava e fu in quel momento che capì di volermelo portare a casa gridai scalciai e pianzi chiedendo un tigrotto tutto mio i miei genitori pensarono che potesse essere una buona idea regalarmi invece un gattino e lo chiamai occhiolino e sembrava proprio una tigre o quanto l'adoravo e poi un giorno il mio bel cervellino decise che era tempo che occhiolino tornasse nella foresta ma insegnare ai bambini a reinserire a mettere in libertà senza specificare che non si può fare con gli animali domestici mi piace credere che occhiolino se la spassi ancora alla grande con il suo branco di tigri era una minaccia ma la mia minaccia solo una cosa non dire a nessuno che ha abbandonato il mio gatto nella foresta a quell'età non avevo idea questi ragazzi praticamente questo signore arturo che tra l'altro è uno dei nostri vicini di casa abita in un condominio vicino al motel tomaran ha commesso un vero e proprio reato ragazzi perché abbandonare animali domestici è un reato è pur vero che era piccolo quindi non si stava rendendo conto di quello che stava facendo anzi pensava di fare una cosa buona però in realtà così non era e quindi questo è un segreto davvero scottante che trudy non può lasciar passare come gli altri perché se vi ricordate il segreto di mariam che ha scoperto nell'episodio scorso l'ha tenuto un po' per sé facendo capire a mariam che qualcosa aveva capito e quindi di stare un po' attenta mentre un altro dei segreti che aveva scoperto questo qua di già nella trista invidia ne ha fatto un video che ha pubblicato sul suo canale youtube gossip sim e che mi frutta qualche soldino infatti guardate un po qua sul rapporto giornaliero sui diritti d'autore questo qua ha creato il video intitolato un tristo segreto che secondo me si abbina appunto al segretuccio della nostra simmina e quindi niente praticamente l'ha fatto conoscere in giro e ne ha ricavato un po' di soldini però invece il segreto di arturo ragazzi essendo appunto abbastanza così caldo scottante diciamo che proverà a fare una cosina non proprio carina ovvero proverà a ricattare il nostro arturo cioè adesso andrà da lui gli dirà guarda che io conosco il tuo segreto quindi non so diciamo che forse dietro ad un adeguato compenso potrei starmi zitta altrimenti lo spiattelerò in giro sul mio canale e quindi ragazzi eccoci qua davanti alla casa di arturo trudi l'ha intercettato poco prima che tornasse a casa dal lavoro e diciamo che lei va dritta al sodo senza troppi mezzi termini quindi discuti del segreto tra l'altro è venuta anche quello che penso sia la sua nipotina e guardate un po gliel'ha detto chi ha rettondo senti io conosco il tuo segreto che vogliamo fare so che è un segreto ecco che penso proprio tu non voglia che la gente sappia ora che il segreto è noto tu di può scegliere di dire alturo che lo costruirà oppure ricattarlo e ragazzi questo come vi dicevo è un segreto troppo troppo scottante per non poter guadagnarci qualcosina quindi si trudi lo fa senza troppi ripensamenti ricatta e vediamo un po se ci sta il nostro arturo allora che ne dici io potrei stare zitta se ho qualcosa in cambio e lui si assolutamente non voleva che questo segreto diventasse pubblico perché ragazzi effettivamente un reato quindi insomma avrebbe avuto delle ripercussioni senz'altro negative intanto guardate qua la nipote che dice ma nonno ma questa tizia che cosa vuole che cosa gli ha dato adesso pure la nipotina mi immagino va da spiattellare in giro l'intrallazzi di suo nonno ma questo non è un problema nostro ragazzi comunque guardate qua intanto che mood gli ha comparso ancora accordo redditizio magari sbaglierò ma con i simole non si sbaglia mai è già trudin ha ricavato un bel po di simole non ho visto quanto di preciso ma mi è apparso più di un centinaio quindi questo segretuccio ci ha fruttato qualcosa adesso possiamo dire Arturo va bene dai starò zitta per il momento ma attento a te attento a te Arturo intanto ragazzi siamo arrivati alla mattina dopo come vedete Trudy sta cucinando e sta cucinando praticamente volando sopra il lavandino ma vabbè non ci facciamo altre domande comunque che cosa sta preparando dei brownie quindi un dolcetto abbastanza semplice da fare in formato festa perché oggi la nostra Trudy vuole organizzare un piccolo evento ovvero un simposio di quartiere uno degli eventi nuovi introdotti con l'espansione in affitto intanto si è pure rotta l'unghia lei avendo il tratto delicato queste cose non le tollera proprio ma si sta sforzando perché vuole organizzare questo evento ristretto proprio a tutte le famiglie che abitano al motel Toma ovviamente escluso il proprietario perché come sapete ragazzi in questo motel vingono un sacco di regole tra cui non organizzare eventi sociali quindi organizzando questo evento oddio che belli andremo un po contro le regole del condominio intanto è venuto di una qualità normale perfetto brava Trudy lo metto qua vi dicevo comunque a Trudy al momento non interessa tanto andare contro le regole del condominio se ci sarebbe a pagare una multa la pagherà pure magari ma il suo obiettivo è quello di oddio aspettate un secondo che sta succedendo infestazioni di fantasmi oh mio dio cos'è un fantasma sta continuando a infestare l'unità abitativa chiama il proprietario per risolvere il problema o cerca di liberarti del fantasma in prima persona vabbè ma questa cosa non la sapevo non mi è mai capitata infestazioni di fantasmi sembra che questo luogo si è infestato da un fantasma che non ha alcuna intenzione di andarsene gli occupanti sono terrorizzati in qualche modo bisogna provvedere cerca di liberarti del fantasma scegliendo di sorcizzare l'oggetto posseduto puoi anche provare ad affrontare il fantasma ma alcuni sono particolarmente testardi ah interessante seleziona gli oggetti fluttuanti ed esorcizzali per esiliare il fantasma infestante affronta il fantasma seleziona il fantasma infestante affrontalo per far sì che non gli ha più fastidio ok ragazzi adesso andremo a fare questa cosa perché fantasmi in casa non è proprio il massimo comunque vi dicevo vuole organizzare comunque questo evento per conoscere meglio i suoi condomini vicini in realtà è un'occasione per cercare di scoprire altri segretucci allora io però prima di dare la pezza giustamente magari fantasmi si devono un po' allevare dalle scatoline ma non riesco a capire dove stanno questi fantasmi perché io non vedo niente ragazzi ma dove starebbe selezionare gli oggetti fluttuanti allora non vedo nessun oggetto fluttuante tra l'altro sta arrivando pure il proprietario ragazzi sta succedendo un caos in questo episodio il team proprietario sta arrivando a sistemare tutto assicurati che possa entrare ah grazie quindi stai veramente ah eccolo eccolo il fantasma e sta arrivando il proprietario eh voglio proprio vedere se il proprietario farà qualcosa oppure no perché insomma conoscendolo ah ma il fantasma ci sta buttando la spazzatura quindi tutto sommato ragazzi ma è un fantasma utilissimo grazie io a questo punto me lo terrei questo fantasma non è che l'esorcizzo qui intanto c'è di di nuovo amara però scusami cara ma oggi un po' da fare no vabbè fantastica questa cosa il fantasma che ci viene a buttare la spazzatura è adorabile ma tesoro vienesci anche più spesso infesta pure il il cestino finché lo fai fuori da casa mia va bene comunque vediamo se riusciamo a portarla a termine questa questa missione esorcizza 400 simoleon alla faccia alla faccia scusa ma il proprietario no anche che io non pago vieni tu caro apri il profilo non c'è il proprietario se l'ha data a gambe invita a stare insieme al momento nessuno è disponibile per passare il tempo insieme ragazzi ve l'avevo detto che il proprietario di casa non era proprio una persona che risolveva la situazione ma insomma già si vedeva dalle condizioni negli appartamenti ha detto che veniva e invece se l'è data a gambe quindi niente dobbiamo cavarcela da sole e sborsare la bellezza di 400 simoleon io non sono affatto d'accordo e appena lo incontro philip il proprietario vedi un po che mi lamenterò assai per il momento però dobbiamo cercare un po di risolvere la situazione per conto nostro ma guardate se mi tocca pagare 400 simoleon sono tantissimi sono veramente tantissimi qua gente che se ne va in giro comunque in mutande tra l'altro è max jackson il marito oddio di natasha va bene tutto regolare come vedete abbiamo dei condamini molto a posto con la testa siamo riusciti ad esorcizzare no perché non ho pagato assolutamente nulla il fantasma sta ancora qua sta rimproverando i miei gatti scusami cara come ti permetti affronta affronta il fantasma i miei gatti non li rimprovera nessuno a parte me eccoci qua adesso vediamo che cosa succede senti non ti permettere va bene se mi butti la spazzatura ma i miei gatti li devi lasciar stare capito e battene subito ma io pensavo facessero tipo a botte presentazione amiche ma no che amichevole scortese scortese comunque ragazzi vedo che sto miseramente fallendo perché non sto riuscendo a fare niente di queste cose ma se io lo spintono qualcosa succede oppure essendo impalpabile o ci riesco ci riesco a spintonarlo però ragazzi non se ne va urla parole proibite te ne devi andare forse non hai capito come faccio a bandarlo via ragazzi insieme la mamma sia un lama sì qualche insulto di qua e di là va bene continua a sfogarti e qua oddio lei si è arrabbiata sul serio in questo momento diventata furente però respingi ancora non va via ragazzi chiedi qual è il problema di juniper sì dimmi il tuo problema perché sta infestando la mia casa per favore qua ragazzi una lotta con un fantasma veramente oggi non me l'aspettavo e non vuole proprio andarsene te ne devi andare da casa mia capito battene assomiglia un granchio così rosso battene rilassati una volta tanto in termini di preferenza del sim si può dire che trudi non gradisce i sim vigorosi ok dai al momento non mi piace particolarmente nutro del risentimento per alcune cose che alla fine dimenticherò o forse no cos'è una minaccia guarda che ti ci metto pure a te su gossip sim te lo dico affronta il fantasma dai la prima volta abbiamo fallito vediamo se questa seconda volta ce la facciamo ma insomma te ne vuoi andare ok forse si sta pentendo ragazzi no invece no bene mi sa che ce la terremo qua a tempo indeterminato ma quanto dura questo 20 ore che dura tantissimo questo evento no vabbè guardate qua ha infestato il mio cestino esorcizio per 400 che prima non ci sono riuscita niente non riesce a farlo ragazzi mi sa che questa ce la teniamo a casa per un bel po aiuto niente ragazzi il fantasma continua a crearci un sacco di guai cioè guardate qua ma veramente il proprietario mannaggia la miseria ecco ci ha pure rotto qua tutto sta facendo un caos c'entra la visuale io vorrei sapere dove diavolo sei philip cioè questo sta a chilometri di distanza se n'è veramente andato scappato a gambe levate chiamo da te è troppo lontano per chiamarlo mannaggia a te guarda che appena ti becco qua vedi che succede vedi proprio eh vediamo se riusciamo ad esorcizzare perché io non è che posso tenermi questo fantasma in casa e a riparare tutto dai oh wow addirittura ora devo proprio andare grazie per la compagnia ci vediamo dopo ma grazie cosa ottimo lavoro con quel fantasma infestante di conseguenza la valutazione dell'unità abitativa è migliorata non mi sembra proprio cioè non mi sembra proprio il caso ho dovuto fare tutto da sola io anzi io reclamerò contro il proprietario altro che migliorata l'unità abitativa cioè ragazzi veramente qua tocca fare tutto da sola e lei tra l'altro appena si spezzano unghia succede una tragedia quindi veramente trudi se la sta passando davvero male in queste ore ma io scherzi a parte posso lamentarmi con il proprietario che non ha mosso un dito in vita nell'otto attuale eh sì caro cioè guarda un po qua che è successo ho dovuto affrontare un'infestazione di fantasmi da sola quindi tu adesso caro visto che sei il proprietario di questo posto postaccio vieni qua philip bunson che arriverà molto presto e voglio proprio vedere oh sei degnato di venire a casa ce l'hai fatta vieni vieni chiama da te guarda ti voglio far vedere che cosa è successo questo ride da solo ragazzi cominciamo proprio bene cominciamo proprio bene così in realtà iniziate anche a conoscere meglio pure voi il proprietario di cui parleremo abbondantemente nei prossimi episodi per il momento però direi che discutiamo di politica nel senso discutiamo della politica di questo condominio che sta succedendo questo mamma mia ragazzi questo sta fuori di testa proprio eppure flirtante ma no forse hai capito male non ti ho invitato per quello sono arrabbiatissima c'era un'infestazione ho dovuto fare tutto tutto da sola ma ti sembra proprio il comportamento di un proprietario di casa adeguato vediamo se c'è qualcosa in particolare affitto chiedi di ispezionare discuti della modifica delle regole dal previso lamentati ma lamentiamoci assolutamente sì guardate lui cioè ci sta dicendo guarda ma non ti sto manco a sentire che dici qua e va tutto benissimo il mio gatto tra l'altro rischia di mangiarsi roba che non dovrebbe mi dice che va tutto benissimo ma io ti urlo contro caro ti urlo contro come minimo e ringrazia che non ti meno proprio chiedi di ispezionare un oggetto dell'unità abitativa è direi di ispezionare il lavandino cioè almeno fammi questo favore guarda che qua il fantasma ha rotto tutto allora ha intenzione di fare qualcosa ok sta ispezionando vediamo un po spero che ci ripaghi in parte almeno i soldi perché ho dovuto subossare tutto di tasca mia ragazzi già ditemi voi se vi sembra una cosa normale ecco che cosa hai trovato sta provando a riparare io però non so se conviene che lui lo ripari perché non mi sembra proprio una persona su cui fare affidamento speravo che magari insomma chiamasse un servizio di riparazione efficiente ma no l'è diventata tesissima croce dell'affettuario non lo nego questo posto fa piuttosto schifo si trudi ce ne eravamo tutti resi conto bene dovrebbe aver finito io ho paura a levarmi dentro questo lavandino a questo punto perché davvero non lo so cosa potrebbe succedere intanto spiamolo perché magari possiamo ricattare anche lui nel senso guarda se non ci ripari tutto non ci pulisci tutta la perfezione io spiattello tutti i suoi segreti su gossip sim sei avvertito è ok ok forza ha recepito il messaggio e abbiamo scoperto un segreto anche sul nostro proprietario di casa assolutamente questo lo voglio leggere ragazzi sentimenti di philippo e pertudi vicinanza per i ricordi felici vabbè ragazzi mi pare chiaro che lui è completamente fuori di testa perché se questo ti ha sembrato un momento felice io non so non so proprio comunque pantaloni strappati corso di storia terza ora ero in prima fila lo ricordo come se fosse ieri la mia insegnante la signorina sakamoto chiesa a ciascuno di noi di improvvisare un discorso sulla storia della principessa cordelia naturalmente mi sentivo un po disagio ma niente avrebbe potuto prepararmi a quello che stava per accadere appena mi alzai dal mio posto senti un terrificante rip mentre il resto dei miei jeans si squarciava davanti a tutti e come se non bastasse indossavo un paio di imbarazzate vecchie mutande dei vuoto mostri ebbene sì era il giorno del bucato e fu davvero mortificante giuro che nei miei incubi riesco ancora a sentire le risate fragorose dei miei compagni di classe beh caro scusami ma posso dire che te lo sei meritato oppure sembra un po cattiva perché insomma dopo tutto quello che ci hai fatto passare secondo me te lo sei un po meritato anzi lo sai che cosa ti dico che adesso ti dico che so il tuo segreto quindi caro stai attento a te perché se la prossima volta non fai tutte le cose per benino io questo segreto lo spiattello sul canale sappilo sei avvertito e quindi ragazzi abbiamo in mano un'altra arma di ricatto per il nostro più pretare in tutto ciò direi che a questo punto non ne puoi pure andare a casa e grazie di niente niente ragazzi io penso che ci fermiamo qui con l'episodio di oggi direi che il simposio lo organizziamo nel prossimo perché si è verificata questa infestazione del tutto inaspettata e ci sono successe già abbastanza cose quindi per oggi è tutto spero che il video vi sia piaciuto fatevelo sapere sotto nei commenti io comunque mi sono divertita ad affrontare questo evento imprevisto e voi noi ci rivediamo presto nei prossimi video ciao